Ciao a tutti, oggi sono qui e voglio farvi un video un po' diverso e voglio parlarvi dei miei prodotti low cost vi mostrerò una serie di prodotti sotto i 5 euro inizio subito perché sono tantissimi e cerco di non dilungarmi troppo iniziamo dalla base un fondotinta che a me piace molto e consiglio è lo Stay All Day di Essence io ce l'ho nella colorazione 20 soft nude e ovviamente su questo tipo di fondotinta non badiamo all'inci ed è però un fondotinta davvero buono, leggerissimo ha una media coprenza è molto leggero anche per questa stagione volendo e mi ci trovo davvero bene il prezzo è di 3,75 euro per quanto riguarda i prezzi Essence li ho presi dal sito Cosmetics for Less perché così li avevo tutti quanti a portata di mano anche se effettivamente mi sembrano un pochino più bassi di quelli che troviamo noi negli stori italiani quindi vai avanti per quanto riguarda il correttore consiglio questo correttore F che ormai è il mio è finito ed è il Cover Everything Concealer che non ho trovato sul sito ma penso si sia orito ed è ben intorno ai 4 euro è un correttore ad altissima coprenza è un po' pastosino va lavorato bene per far sì che non vada nelle pieghette e fissato subito con una cipria ma una volta fissato ha una durata ottima ed è veramente fantastico è l'unico correttore che a me copre qualsiasi tipo di occhiaia di imperfezioni ed è davvero davvero bello considerando che costa intorno ai 4 euro un'alternativa bio al correttore e anche diciamo meno coprente è questo della Benecos ed è il Natural Concealer che viene 4,90 euro questo correttore io ce l'ho nella colorazione più chiara secondo me è la pecca di avere solo due tonalità è carino perché è anche illuminante secondo me ma ha una cosa che mi dà fastidio da morire appena lo apro ha un odore forte di vernice non lo so eppure ha un inci verde fatemi sapere se è un problema del mio anche voi se lo avete vi fa questo effetto però a parte questa cosa ha una bassa coprenza quindi non è indicato a occhiaie molto marcate però non è fatto un correttore male insomma passiamo alla cipria per quanto riguarda cipria traslucida consiglio questa che a me è caduta della Essence l'Alba Out Matte ed è appunto una cipria traslucida è fantastica perché costa poco perché viene 2,95 euro e fissa bene il trucco non fa lucidare la zona ed è veramente veramente buona è un colore cioè ce n'è una unica non ci sono varie colorazioni ovviamente ed è una cipria che vi consiglio perché non adorasse le cipri traslucido ho un'alternativa diciamo di cipria colorata ed è questa ci sono andato sopra un po' di cipria questa della Moa per chi non lo sapesse è una marca inglese molto economica Makeup Academy ed è questa cipria qui che ha un colore molto naturale anche se per me è un pochino scuretta io ce l'ho nella colorazione shade 2 e questa viene 1,26 euro vi consiglio di fare un giro sul sito della Moa perché ha dei prezzi fantastici poi magari in seguito ve ne parlerò meglio ora vado più veloce per quanto riguarda la terra per chi vuole solo un effetto diciamo sano senza contouring e cose varie consiglio questa della Elf che è il golden bronzer ed è questa qui che ha 4 tonalità come vedete ha già un pochino la mia io normalmente le mischio tutte quante con un pennello grande da viso ed ha proprio un effetto sano abbronzato ed è davvero davvero carina ha dei micro glitter non so se si notano ma una volta steso sul viso rimane molto luminoso ma non ci sono proprio glitter visibili e questa viene 4 euro e 95 mentre per quanto riguarda un bronzer opaco quindi anche più adatto al contouring consiglio la salda california di neve cosmetics che è questa qui non so se il colore si nota è davvero bella dà un effetto naturalissimo è anche adatta volendo a un contouring ovviamente niente di troppo marcato ed esagerato e la salda viene 4,20 euro per quanto riguarda i blush il mio preferito in assoluto tra i blush economici è il silky touch blush di essence che ormai penso conoscete tutti io ho la colorazione 20 baby doll sono pigmentatissimi questo è il colore è proprio un bel rosa ha delle perlescenze sono davvero pigmentati hanno un'ottima durata e costano pochissimo perché viene 2,45 euro ed è l'unico blush che continua a finire infatti questo sarà tipo il terzo che ricompro una cosa del genere e compro anche sempre la stessa colorazione perché mi piace molto e dà un effetto sano luminoso ma non troppo pacchiano insomma altro blush che vale la pena di citare sono i blush appunto come vi dicevo prima della Mua questo blush viene 1,26 euro non rende quanto è bello il colore perché è un bellissimo colore pescato con dei microglitter e vediamo se riesco a farvelo vedere ma non rende davvero no vi dico che quando feci l'ordine mi è arrivato visto la grandezza per farvi vedere in confronto alla cipria è piccolissimo il blush ho detto se capirai mi durerà pochissimo invece vi dico che è il blush che uso praticamente tutti i giorni da circa 4 mesi 4-5 mesi e ha solamente questo buchino è fantastico a me piace davvero davvero tantissimo per quanto riguarda l'illuminante consiglio una cialda neve che è questa qui che sembra gialla dalla fotocamera ma in realtà non è così è questo colore vira sul dorato ed è davvero bellissimo perché lascia un effetto naturalissimo sulla pelle ed è l'illuminante plastic di neve cosmetics stando una cialda viene come la terra 4,20 euro e a me piace davvero tanto perché come vedete è luminoso ma non troppo glitterato quindi dà un effetto molto molto naturale per quanto riguarda invece gli occhi diciamo la base è finita consiglio questa matita per sopracciglia della benicos che è la natural eyebrow designer io ho la colorazione gentle brown anche questo se non sbaglio ha poche colorazioni questa è un po' la pecca benicos ed è un marroncino normalissimo come vedete ha da un lato appunto la mina con la matita e dall'altra il pettino per le ciglia che io trovo un po' duro però è comunque una buona matita mi tiene tutto il giorno cioè l'applico la mattina e la sera quando vado a stuccarmi ancora ce l'ho e viene 2,99 euro il primer occhi ne avrei diversi da citarvi ma il mio amore rimane lui la low stage di essence perché è davvero l'unico primer che applico la mattina applico gli ombretti e la sera ho ancora tutto intatto e ieri ho fatto un trucco alle 9 di mattina e mezzanotte era ancora perfetto tranne la matita un po' sbavata ma il resto era cioè gli ombretti erano intatti questo qui viene 2,45 euro ed è fantastico ha l'applicatore diciamo come quello dei gloss per capirci ed è uno dei pochi primer che ha davvero una buona posso dire no coprenza però nel senso elimina perfettamente le discromie degli occhi e uniforma benissimo la palpebra è davvero perfetto non ha perlescenza all'interno quindi rimane molto naturale per quanto riguarda i ombretti ho da mostrarvi queste nuove valettine di Essence che ormai avete visto ovunque e sono i ne ho due l'All About Nude con appunto i colori nude come vedete e l'All About Paradise che ha diciamo colori un po' più vivaci per l'estate queste palette sono carinissime specialmente questa che è molto più pigmentata della nude e vengono 3,45 euro per quanto riguarda i ombretti come sapete io amo Neve Cosmetics e consiglio anche i loro pigmenti per i colori particolarissimi che non si trovano di altri brand secondo me perché sono dei colori davvero particolari e vi lascio i link dove parlo di neve perché è inutile che mi dilungo ancora sui minerali per quanto riguarda invece le matite occhi io trovo che una validissima matita occhi low cost siano le long glassing di Essence io ho varie colorazioni qualcuno anche spazza nelle borse e diciamo quella che uso praticamente giornalmente è quella nera che è la 01 Black Fever sono fantastiche e mi piacciono tantissimo anche perché hanno lamina automatica quindi senza preoccupazioni di temperino e cose varie sono molto pigmentate e danno un'ottima ottima durata vi faccio vedere qualche colore al volo poi magari se vi interessa vi faccio pulisco quasi non ho spazio vi faccio un video opposta su queste matite visto che ne ho davvero parecchie però per farvi vedere giusto qualche colore tipo questo è il celeste alcune sono matte alcune sono glitterate secondo me quelle da avere assolutamente sono quelle nera e quella marrone questo è un bellissimo dorato bronzo magari appunto vi farò un video dettagliato su queste matite e vengono solamente 1,45€ quindi ve le straconsiglio per quanto riguarda mascara anche qui io adoro i mascara essence ne ho provati di diversi davvero tanti e nessuno nessuno mi ha mai deluso tra l'altro uno che mi piace tanto adesso è andato fuori produzione che è il 2 in 1 volume però di quelli che ci sono mi piace tantissimo il Go Lushes Go Wild che è quello col tubettino stile dentifricio con questo scopolino e mi piace molto e anche i multi action questo nero e rosa perché trovo che distriga perfettamente le ciglia come nessun mascara mi fa e questi vengono da 2,45€ a 2,75€ e trovo che siano mascara davvero davvero validi e non ce n'è uno che mi abbia deluso siamo arrivati alle labbra e qui consiglio i rossettini della linea long lasting sempre di essence io ho 2 colorazioni che sono la 08 e la 09 la 08 è questo bellissimo fucsia color crush eccolo mentre la 09 è un rosa tendente più al viola ed è wear berries non sembra ma è molto più tendente al viola e questi vengono 2,25€ sono davvero ottimi mi piacciono tantissimo perché hanno una durata pazzesca sono morbidissimi non seccano assolutamente le labbra sono davvero degli ottimi rossetti una valida alternativa bio sono le pastello nevi cosmetics io ne ho solamente due tra cui una che non mi piace come sta addosso però in qualche modo la sto usando e sono coccinella e fenicottero coccinella è un bellissimo rosa che però su di me non dona molto sinceramente e invece fenicottero è l'ultimo acquisto ed è bellissimo è un fucsia bellissimo che sta perfetto con il fucsia del rossetto di essence queste matite non si usano come semplici matite labbra ma possono essere usate come veri e propri rossetti per quanto sono morbide e hanno un'ottima durata e vengono 4,80€ niente ragazzi ho finito e ho cercato di fare il più veloce possibile per non far diventare il video troppo lungo spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere anche i vostri prodotti low cost preferiti quali sono e se avete provato alcuni di questi al prossimo video ciao ciao